Questo qua che sta rivedendo schermo è uno dei progetti più complessi mai creati in ambito YouTube Perché? Perché questo progetto è un progetto abbastanza complesso e pre-complesso Intendo che ha differenti porzioni, analizziamo insieme Perché? Perché abbiamo una parte che è questa parte qua Comprendente tutte queste parti audio E questa parte diciamo blu, non questa blu qua, questa blu che ho selezionato con un contorno giallo Sono le parti di parlato, parlato o musica Perché possono anche essere le parti relative all'audio La parte centrale invece è questa parte qua È una parte da cui ho preso le clip di Apple Conseguentemente posso capire che se voi qua per esempio vedete Apple nella WC e Apple Intelligence Questa clip ovviamente ne l'ho fatta io È una clip che ho preso al web e che poi ho inserito nel video dove ce l'ho ovviamente io Se avessi aperto tutti quanti i clip Apple avrei ovviamente rubato il video Invece ho dovuto integrarle in ogni video Poi abbiamo questa traccia qua, questa diciamo linea E questa linea è una linea di string di appunto video Ed è il video principale dove ce l'ho appunto io che parlo Poi qua in alto troviamo la parte viola Che sono principalmente gli effetti Per esempio qua te l'ho scritto Camera Shake Camera Shake sta a significare che la camera se voi notate non è ferma Anzi andando avanti, fissando un attimo l'attenzione su questa parte dello schermo Vedete che si muove la telecamera e quindi fa un effetto un po' più diciamo buono Per mantenere l'attenzione del pubblico Poi abbiamo anche Light and Shadow Guardate come fosse, come sarebbe particolare se io disattivassi questa funzione E tutto è più cubo, più scuro Attiva, disattivata, attivata Disattivata, attivata E oltretutto è molto importante comprendere anche altre piccole parti viola Qui in alto, per esempio questo testo l'ho creato tramite questa porzione Dunque, questo progetto è un progetto abbastanza ampio E' il progetto che mi auguro che tutti voi sappiate editare o montare Editare o montare perché non lo sapesse Sono i due termini di cerco tecnico Che appunto possono spiegare come si appunto modifica un video Perché il video può essere video editor o videomaker Mi ricordo che lo fai tu da zero, quindi come ho fatto io Video edit, ricordo che fai un edit Ovvero prendi un video giudistente Per esempio la saga di Star Wars E fai delle tre modifiche su quel video Ma edit, perché? Perché usiste make, in inglese making Ovvero che lo crei tu stesso Grazie a tutti Grazie a tutti